Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, torniamo a parlare stasera di politica regionale incontrando i protagonisti delle prossime elezioni nelle liste e negli schieramenti che si proporranno ai cittadini per il rinnovo del Consiglio regionale nel turno del prossimo 10 di marzo. Questa sera ospite nei nostri studi è il rappresentante di Europa Verde, Alessandro Monaco, buonasera Monaco, sindaco di Casa Cantidella e protagonista di questa sfida elettorale in tandem con Sinistra Italiana in una delle liste che sosterrà il candidato presidente Luciano D'Amico. Innanzitutto, volevo ripartire proprio dalla convergenza su questa candidatura che è avvenuta con un campo largo, anzi larghissimo, di cui si è parlato anche a livello nazionale, si è parlato anche di modello Abruzzo per una coalizione che riunisce tutte le forze che dal centro-sinistra al Movimento 5 Stelle sono all'opposizione del governo Meloni, ma in particolare adesso dopo la scelta del candidato siete entrati già in una fase programmatica. A che punto siete con questo cantiere della coalizione? La coalizione per quanto ampia risponde alle esigenze anche abruzzesi, l'Abruzzo è una regione composita, è la settima regione più industrializzata d'Italia e al contempo è anche la regione verde d'Europa, la regione dei parchi nazionali, quindi per una regione così complessa c'era bisogno anche di una coalizione ampia, che fosse competitiva e che potesse essere una vera alternativa al centro-destra che attualmente governa la regione e anche l'Italia. Per quanto riguarda la formazione del programma, ovviamente tutte le varie liste, le varie componenti stanno presentando le proprie istanze, si dovrà poi ovviamente fare un lavoro di sintesi, ma la cosa più interessante, la cosa che io reputo migliore del lavoro di questa coalizione è il lavoro di costruzione dal basso, cioè una serie di incontri anche dello stesso candidato D'Amico con la società civile, associazioni, imprese, è previsto anche un incontro generazionale con i giovani a sostegno del candidato presidente D'Amico, appunto per riuscire a avere un programma che possa curare tutti gli aspetti e tutte le problematiche della regione Abruzzo. A voi naturalmente stanno in particolare a cuore quelli ambientali che sono ormai da settimane le notizie di apertura dei nostri telegiornali, perché quando parliamo di ambiente parliamo anche degli effetti dei cambiamenti climatici e in particolare le chiedo in una sfida come quella delle regionali quali sono nella realtà, nella concretezza a fronte di un tema così globale invece le leve su cui può incidere la politica regionale? La politica regionale può incidere in diversi modi, per quanto mi riguarda la problematica ambientale è soprattutto una problematica socio-economica ormai, tutti sappiamo che i cambiamenti climatici sono collegati a un problema di produzione ed è innegabile che noi siamo di fronte a quella che Jeremy Rifkin chiama una nuova rivoluzione industriale. Questo cosa comporta? Che noi stiamo passando da un vecchio modello a un nuovo modello socio-economico. La destra cosa sta facendo in questo passaggio? Sta cercando di aggrapparsi un po' allo spirito, al bel pensiero di quanto stavamo bene prima per sperare di tornare a un mondo che non ci sarà più perché il contesto non ci riporterà mai più lì e nel frenare questa transizione è come se noi stessimo attraversando un'autostrada. Il centro-destra ci tiene fermi su questa autostrada e prima o poi un camion ci prenderà in pieno. Quello che dobbiamo fare è attraversarla, entrare nel mondo nuovo che è fatto di produzione diversa, di opportunità, di crescita, di sviluppo e di sostenibilità e per fare questo noi dobbiamo ripensare i modelli di produzione. La regione dove può incidere? Da un lato per quanto riguarda la politica agricola, noi sappiamo che per quanto sia competenza europea la regione comunque può intervenire in vari modi. Abbiamo un esempio concreto di quello che la regione non ha fatto e cosa comporta questo non fare? Abbiamo visto tutti che la nostra primavera è stata caratterizzata da piogge che hanno favorito l'insorgere della peronospora e ha portato un calo della produzione vitivinicola del 60 anche 70% in provincia di Chieti. Il rimanere aggrappati al vecchio mondo ha portato che oggi noi ci troviamo tante imprese agricole, tanti coltivatori diretti che a fronte di questa perdita di fatturato si vedranno riconosciuti una piccola mancetta che non gli permetterà di andare avanti, quindi quello che ci vuole è una lungimiranza, pensare a come traghettare anche l'agricoltura verso un'agricoltura sostenibile, non necessariamente subito il biologico perché altrimenti metteremmo i nostri produttori nella condizione di non poter affrontare quelle sfide che li attendono, ma la Regione ha questo compito, ha il compito di guardare avanti e non di guardare indietro. C'è stata anche questa grande occasione del PNRR proprio sui temi della transizione energetica, che giudizio dà lei anche da sindaco, da amministratore su come sono stati progettati e investiti i fondi sul nostro territorio? Si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio, si potevano cogliere con maggiore sintonia quali erano le direttive e lo spirito del piano di ripresa e resilienza? Sicuramente si poteva fare meglio, io penso a bandi assurdi come quello che fu nel progetto pilota, cioè dare 20 milioni di euro a un singolo comune, quando sappiamo benissimo che i comuni hanno anche difficoltà a spendere quelle somme e 20 milioni di euro, io non invidio per nulla il comune di Calascio che si è trovato una quantità economica del genere da affrontare. Ecco, una ripartizione delle risorse più sensata, più volta all'investimento in infrastrutture, ma anche nel potenziamento dei servizi avrebbe potuto consentire quel passaggio verso il nuovo mondo di cui parlavo prima. Noi sappiamo benissimo che il centrodestra, non solo quello regionale, ma anche quello nazionale, è stato protagonista di una revisione del PNRR che per la regione Abruzzo è voluto dire quasi mezzo miliardo, anzi forse anche un po' di più di mezzo miliardo di risorse in meno. Sappiamo che è stata messa in discussione un'opera strategica come l'alta velocità Roma-Pescara, queste sono tutte azioni che vanno a indebolire la forza dell'Abruzzo, perché l'Abruzzo come detto ha delle caratteristiche particolari che gli permettono di inserirsi in un contesto socio-economico più ampio. Io quando vado all'estero mi chiedono da dove vieni, non dico a 20 km da Pescara, dico a 200 km da Roma. L'anno prossimo ci dobbiamo già iniziare a preparare per il giubileo, per l'Abruzzo è un'opportunità gigantesca, ma qualcuno parla di queste opportunità? No, mettiamo addirittura in discussione i sistemi di trasporto che ci potrebbero collegare a un'opportunità del genere. È una visione provinciale, è una visione ridotta e senza prospettiva che può solo danneggiare l'Abruzzo. Però Monaco, glielo chiedo questo ancora di più da sindaco, il centrodestra, in particolare il presidente Marsilio, parte da un rapporto capillare con il territorio, almeno in apparenza, perché ha visitato almeno due volte tutti i comuni abruzzesi, suppongo, compreso il suo. Il mio no, le posso dire. Allora è uno dei pochi, quindi arriverà presto, mi immagino, anche a Casa Canditella. Nel centro-sinistra è mancata una leadership che abbia comunque vissuto sul territorio questi cinque anni di consigliatura. Ecco, questo rapporto con gli amministratori locali attraverso Luciano D'Amico, come contate di recuperarlo? Il rapporto con gli amministratori locali lo possiamo recuperare per il semplice fatto che quest'anno il centro-sinistra è partito con ampio anticipo. Io ricordo le elezioni regionali del 2019, quando la candidatura di Legnini uscì anche metaforicamente come un'epifania il 6 gennaio, quindi era praticamente un mese prima delle elezioni. Quest'anno siamo partiti con mesi di anticipo, la candidatura di D'Amico, nonostante sono state lunghe trattative, era comunque già sul tavolo fin dall'inizio, dalla creazione di questa coalizione e già adesso in realtà sono stati creati quei rapporti tra il candidato presidente e tanti amministratori locali. Ecco, questo è il primo passo per creare quel legame che forse effettivamente è mancato parzialmente in questi cinque anni. Inoltre va anche detto, e qui parlo a nome di quella che sarà la lista di alleanza verde-sinistra, che l'ulteriore cucitura tra il governo regionale e gli amministratori locali avverrà mediante le candidature delle liste. Noi per esempio puntiamo a inserire una serie di amministratori locali nelle nostre liste, perché poi sono le persone che conoscono il territorio, le persone che conoscono i problemi territoriali e i problemi delle persone, perché la politica si fa calata nel territorio, bisogna conoscere non solo le strade, ma anche la cultura, la mentalità delle persone. Non è un caso che una delle critiche principali che si fanno a Marsilio è che è di Roma. Spesso si è sentito, ma ti pare che non ci stava un abruzzese, ma non è che quando si muove questa critica si vuole essere necessariamente campanilisti. Il punto è che una figura come quella di un presidente di regione deve conoscere bene storia, società, cultura e territorio della regione che amministra. Oggettivamente il fatto di non essere abruzzese è un handicap importante. Al contrario, come dicevo, noi invece puntiamo su tanti amministratori locali che già conoscono il territorio e che quindi potranno prontamente dare delle risposte di cui l'Abruzzo ha bisogno fin da subito. Un'ultima battuta sul tema principale, almeno delle competenze della regione, la sanità è in approvazione del piano con la rete ospedaliera che verrà avvelato probabilmente dentro le ultime settimane di questa legislatura, anche per chi vive in un centro non vicinissimo agli ospedali. Che tipo di scenario si profila e soprattutto quali sono invece le risposte da parte della proposta elettorale della coalizione di D'Amico? Le proposte che si profilano nel piano che sono presentato secondo me sono insufficienti, anche drammatiche, ma perché si scontrano con un problema essenziale. Quello che si vuole fare, e da un lato io lo riesco anche a capire, è una decentralizzazione della sanità. Questa decentralizzazione però ha bisogno di un'infrastruttura, ha bisogno di internet, perché quando mi si parla di telemedicina, ad esempio, vuol dire che io presuppongo l'esistenza di una copertura di una banda ultrararga su tutto il territorio, cosa che attualmente non c'è. Quando mi si parla di decentralizzazione della sanità, mi si parla quindi di operatori sociosanitari che sono presenti su tutto il territorio, cosa che attualmente non c'è. Quindi quello che vedo io attualmente non è una ristrutturazione della sanità, ma è un taglio semplicissimo della sanità. La proposta invece del centro-sinistra è quella di preparare questa decentralizzazione che inevitabilmente ci dovrà essere, perché la signora Maria di Montelapiano non potrà andare tutti i giorni all'ospedale di Chieti e quindi i servizi devono essere portati sul territorio. Ma ripeto, questo cambiamento va programmato e progettato. Prima si porta internet, prima si portano gli operatori, poi si può procedere alla decentralizzazione. Voi siete fiduciosi che in questi mesi possa cambiare anche il vento nazionale a sostenere questo voto in Abruzzo. Il centro-destra punterà molto sulla filiera, vedremo, suppongo, anche tanti ministri qui nel corso della campagna elettorale. Come pensate che possa incidere anche, addirittura, lo scenario internazionale su questo turno elettorale del prossimo mese di marzo? Il contesto sicuramente vede il centro-destra partire da un punto di vantaggio, perché io sono del parere che chi è nelle condizioni di poter fare delle cose, quindi chi governa ha comunque un vantaggio. Nonostante la storia dell'Abruzzo dica il contrario. Va però detto che bisogna vedere come si governa. Noi abbiamo un centro-destra che a livello nazionale sta presentando una legge finanziaria a ribasso, fatta di tagli, che andrà a deludere i tanti che si erano affidati a delle promesse elettorali che di fatto erano irrealizzabili, però adesso lo stiamo anche vedendo concretamente. Sono convinto che la venuta da Roma potrà anche non essere un vantaggio per il centro-destra. D'altro canto però io sono fiducioso sì su un calo di consensi del centro-destra, ma sono ancora più fiducioso su un aumento di consensi del centro-sinistra, perché il centro-sinistra non è che può pensare di vincere perché il centro-destra va male. Il centro-sinistra vincerà, per come la vedo io, in virtù di una proposta seria di concretezza dei temi, cosa che forse è anche mancata un poco, e di rapporto con le persone, perché parlando con le persone si può riuscire a farle capire qual è la direzione giusta da prendere, quali sono le misure da prenderli, cosa il centro-destra in cinque anni non ha fatto e cosa purtroppo ha fatto. Queste sono le vie da seguire. Grazie, grazie Alessandro Monaco per questa intervista. Ricordiamo, lei non sarà candidato personalmente, lei ha un ruolo nazionale nel Partito dei Verdi che, ricordo, insieme a Sinistra Italiana presenterà, credo proprio anche nei prossimi giorni, i propri candidati in modo da partire in tempo utile per la campagna elettorale. Grazie, arrivederci, buona serata.